ciao ragazzi benvenuti dall'ecma prima prima volta ragazzi che metto sul canale oggi parlerò un po bassa voce siamo qua con erika che tanto si ne stava nascondendo ma sta voce perché c'è un po di gente partiamo subito con la moto che è la più interessante lo sapete la TRK 902 Explorer ragazzi che di fatto è la concept della TRK 902 che uscirà poi in teoria al prossimo anno ve la mostro un po ragazzi dal vivo con la livrea Jungle Fog motore 904 potenza 100 cavalli coppia 90 Nm notate ripeto frenante Brembo Torcella Marzocchi nel video avevo detto che era Caiava ma Marzocchi e ragazzi dal vivo veramente molto molto bello è un concept la gente che non sa che è un concept bella ragazzi bella molto bella dal vivo ovviamente uscirà anche in situazione bitosto 19 17 cerchi non finisco tre 20 all'anteriore la strumentazione purtroppo ragazzi non si vede comunque niente ragazzi da questo primo video di Ecma è tutto chiediamo un parere a Erika cosa ne pensi? ti piace? no perché? non mi piace esteticamente niente non è il suo genere ti ha racconto questo ragazzi quando uscirà sono la moto più venuta in Italia secondo me anche più rispetto alla 702 e per quanto riguarda lo stand là c'è lo stand questo è lo stand Anelli con tutte le TRK una bella mostra guarda che bella bella molto bella ragazzi prezzo stimato ve l'ho detto secondo me saremo sulle 9000 euro 9000 9500 considerando che la 302 viene a 7500 figurate di voi questa moto ragazzi immaginatevela ci sono le 17 ci sono anche tassellati piatto finnante Brembo Marzocchi immaginatevela schermo GFT immaginatevela 9000 euro magari con tristi valigie in omaggio Panamani non sarebbe male dai salutiamo ciao ragazzi ciao ciao